Incontriamo alcuni componenti dell'associazione Manfredonia che corren gli organizzatori di questo evento sportivo Re Manfredi Run. Allora, come inizia la giornata della gara? Buongiorno a tutti, l'organizzazione è cominciata abbastanza presto. Stamattina, prima dell'alba, alle 5, ci siamo radunati qui in Maria del Gargano per mettere a punto tutte le parti dell'organizzazione. Impeccabile, secondo il nostro punto di vista, ci siamo riservati di mettere a punto tutti gli aspetti per dare il massimo del confort agli atleti che vengono dalla provincia di Foggia e non solo. Vedo che non vi risparmiate tutti quanti presenti, anche gli infortunati. Anche gli infortunati danno il loro contributo morale, fisico, è importante essere presenti. Ok, grazie e buon lavoro.